ci sentite prova prova allora iniziamo iniziamo questo torneo immediatamente ma non mi sono sbagliato sì perché non è carte esuiz modifichiamo subito e alcares questo è un set del tutto nuovo in quanto abbiamo alcares con sora e c'è un'altra cassa di jinseng che contro terra e con terra allora chiudo solo adesso dovremo cambiarlo E quindi eccoci qua Eccoci qua, sì mamma mia Sono i due giocatori che nonostante non vediamo spesso Cioè non abbiamo mai visto in streaming Comunque si stanno allenando da molto tempo Non si sono mai incontrati tra i loro Sì, però non ho avuto anche così E mamma mia è un terrestri Cacchissimo con il suo block Che inizia già a fare più forti danni Mamma mia, up smash Una lead per il tag di cane Intanto ma per il che prende la prima stop La patria di Arcanist Un'altra stop di... Un'altra stop di... Sono anche molto squisito Eh sì, quello è un problema Eccoci qua Conosce le sue cose alla bicchiazza Allora, i vigenziani in realtà non saprei Di Alka Ressista In realtà penso sia la persona che lo abbia discutito la community Non sto scherzando Sì, sa un sacco di cose di Sora E si è veramente allenato tanto per l'utilizzardo Però deve conoscere più persone contro cui giocare Che comunque ha molta allenamento con Anderson Che è per l'inizio Però sicuramente è per il diverso Mamma mia E vediamo un po' la prossima partita E vediamo un po' la prossima partita Vediamo un po' Ah, ma mi ha lasciato winner così Cosa? Riga di... Riga di... Riga di... Riga di... Non sa me, sì Non mi ha lo scontro a finale letteralmente Riga di... Secondo me la Sora ha un punto Ah, entramme secondo me Se non lo stai disegnando A me basta una musica Adesso Riga di... Riga di... Riga di... Riga di... Riga di... Però sì, c'è un po' di spazio Quasi, però... Comunque Vediamo già un game più vibrato Sì Vediamo cosa si toglie For Real E' sferita con le combo E' alla date E vediamo come si gestisce E' come si scambi di neutral Ed è un po' di spazio Per E' un po' di spazio Per... O' di spazio In ultimo Sì O' di spazio E' un po' di spazio Adesso il primo di Sanchez Sì Mi stava facendo faticato a toccarsi Proprio Ho una povera rivellare Mamma mia, è la Tread è proprio precisissima Ha una buona vita, è una buona vita Sì, sì Stai ripreso con la Tread Sì, vediamo come si fa Mamma mia, sento Oh, ci sta come di AI Non si riesce adesso, guarda Eh, bello come è tornato in vetro, un po' Tread È aspettato, sei se lì qua Sì, sì Sì, sì Sì, sì Non c'è Non ha capito Allora è andato da Vodo è andato da Vodo è stato Sì, il punto è diventato Mh Faccio Ok, non si sta sporaggiando No Mamma mia, le combi di Alkarese Continua con la Peirabin E lo ammazza subito Mamma mia, l'ho detto, vedi? Quello è più avanzato In questo sistema è molto piccolo Infatti si è provato un sciletto Anche in seguito con la special Che è però riuscito Ah, è che se non mi rispetto agli spazi di te Sì Mi sentì Era brutto La non sai più di te Mi poteva, attenzione Oh mio Eh sì Oh mio Dio, guardissimo Sarà un poco bene Perchè aspetta la mia pilota Sì, mi aspettavo una volta Non riesci a attivare Purtroppo, adesso attac Sì, va così Ok, qua è già più pericoloso Perchè te lì Se sa le cose Qua ci vuoi Perfettare No, scrivete proprio Quasi lo suono il film Appena Eh sì Mamma mia, si tenda tutto per tutto così Un'interazione Sì, sì Oh mio Dio Sare leggero, ma Gli angoli di questo scenario Per counter Quindi il scenario Mi fa nostro vantaggio Oh mio Dio Morto, oh mio Dio E cam becca D'addio G6 Beh, è bella la pazienza Oddio Ha cresciuto a prendere un po' la panica Ma no, mi hai detto che gioca contro Anderson Quindi magari Eh, vabbè, sarà anche questo Che è il suo primo torneo Quasi la prestazione Però Cioè, l'abbiamo già visto molto meglio In questo momento Anche Mamma mia Vediamo se il filtro di freddo Il download di G6 G6 Tornano là? Tornano là Viene a te mettere l'esprevante Giochi anche più parecce E' senza bannare Ok, desha là Un po' la Lidia Un po' con G7 Forse sta parlando Un momento in del mio precedente Si Che ci sta Giochi e la mano Ok, come si riesce a tornare Arkeress Ok, riesce a riuscire a riuscire a riuscire Si becca un calcio in testa C'è giù Mischia Sì, fast action Ok Oh, 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 oh La settimana Sera è bravo, 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 bravo Se la vuole giocare, Alca, non la vuole scendere così facilmente Stava troppo vicino No, no Riuscirà ad uccidere, però, di un quel vecchio era spaventato Però adesso non deve avere troppa paura Cioè, nel senso che, ok, rispettarlo, però, ecco, in questi momenti deve riuscire a comodarlo Aia, 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 aia Questo è un bello schiaffo fisico e morale Sì, quando uccide, uccide bene Oh, mio Dio Oh, mio Dio Odio smash, il manicattino Adesso deve provare qualcosa Oh, mia bella Cosa sta facendo Ci stava Oh, mio Dio Cos'era quella No, sta taggando molto Se gli togliergo Molta più speranza Dove è riuscire a togliere a stocca adesso Ma proprio ora No, ho pensato La poteva prenderlo meglio Oh, mio Dio E questo è già, è solo il primo set Oh, mio Dio E fa un smash e fa 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 E finisce qua Il primo set Che Comunque Comunque Alcares Sembra promettente Sì, 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 sì Assolutamente Peccato che un po' di panico In momenti cruciali Pro Le combo Altre interazioni Veramente Giocato bene Sì, lei combo Le sa fare bene Deve avere un po' più fiducia Su alcune cose Come punire nei momenti giusti Terry Però deve sapere Quando farlo Sì, sì Ma come ci hai conosciuto Il mio chapsista Di una mano Hai conosciuto Un Terry Diciamo Esatto, sì